Natale di riflessione, pensieri, movimenti, linguaggi del corpo che vogliono lasciare il segno in una gioventù dalle infinite speranze per un futuro migliore. A Lanciano sono scesi in piazza 80 alunni tutti convinti di lanciare un messaggio di pace, questo il fine del viaggio dei sogni, flash mob organizzato dalla professoressa Teresa Motta, protagonisti gli studenti dell'Istituto Detitta Fermi nell'ambito del progetto Facciamo Teatro a Scuola, un messaggio di ripudio della guerra a favore dei diritti fondamentali alla vita, alla libertà, alla pace. La performance di grande effetto è stata ripetuta più volte con i ragazzi che dall'inizio di Corso Trento e Trieste hanno raggiunto piazza plebiscito. La danza può svolgere azione educativa mirata a creare coscienze nuove per pace e amore. Verso il prossimo.